Una targa in ricordo di Cesare Mori, il prefetto di Ferro di Pavia, che dichiarò guerra alla mafia siciliana scomparso esattamente 80 anni fa, il 5 luglio 1942 a Udine, e sepolto nella città dove nacque il 22 dicembre 1871. La targa che lo ricorda è stata fissa al numero civico 4 di Corso Mazzini in centro storico, nella casa paterna di Mori, alla presenza di autorità civili e militari, oltre che delle associazioni combattentistiche d'arma. È una figura che dà lustro alla nostra città per aver saputo difendere la legalità tutta la vita, ha sottolineato la consigliera comunale Paola Chiesa, docente di storia e promotrice dell'iniziativa. Un pavese a tutti gli effetti che attraverso le sue azioni di lotta alla criminalità organizzata sul territorio siciliano ha dato lustro alla nostra comunità. Come istituzione abbiamo e abbiamo sentito il dovere di celebrare le figure che hanno speso la propria vita per lo Stato, utilizzando le leggi come unica arma e cercando così di rendere l'Italia un Paese migliore. Con la posizione di questa targa vogliamo quindi tributare il giusto omaggio ad una personalità d'eccellenza che mi auguro diventi un esempio per i più giovani, pavesi e nonna.